Ciao e benvenuto in percorso finanza. Io sono Michele Clementi e 25 anni fa nonostante fossi laureato non sapevo niente di finanza. Poi ho fatto un corso, ho scoperto che la materia mi piaceva e ho continuato a studiare, a leggere, a informarmi e oggi da più di dieci anni insegno all'Università di Bologna perché una mia passione è anche quella di insegnare. Unendo le due cose, conoscenza e piacere di trasmettere e condividere la mia passione, è nato Percorso Finanza, un sito strutturato per corsi di apprendimento gratuiti sia per i principianti ma anche per chi vuole approfondire i tanti aspetti della materia. La mission del sito è quella di accompagnarti in un percorso di crescita personale con l'obiettivo di aiutarti a raggiungere la tua consapevolezza finanziaria e la felicità economica, ossia realizzare i tuoi obiettivi finanziari, proteggere te e la tua famiglia dalla sfortuna e se hai pazienza avere nel tempo una tranquillità economica. Sapere pianificare il proprio futuro è facile. 1. Risparmiare. 2. Investire nello strumento finanziario più adatto per raggiungere i tuoi obiettivi e bisogni della tua vita. 3. Tanta pazienza. Appresi questi tre semplici concetti potrai confrontarti con il consulente, la banca o l'assicuratore senza dover riporre la tua fiducia nella fortuna ed anche per loro sarà più facile instaurare un rapporto basato sul confronto con te e il tuo futuro sarà migliore. In questo tuo percorso ti sarò sempre vicino rispondendo alle tue domande per aiutarti nella tua crescita personale. Buona lettura.